Senta, lei qualche mese fa ha detto se ci dovesse essere scissione sarà eventualmente colpa di Renzi. Finite queste ipotesi. Ho detto questa frase? Non ho dubbi. Ma io ho sempre detto, però credo anche in quell'occasione, adesso non lo ricordo, sempre detto che la parola andrebbe cancellata dal nostro vocabolario. Io non voglio la scissione del Partito Democratico. Io ho voluto il Partito Democratico. È il mio partito e lo sento come tale. Ho riversato al pari di altre milioni di persone energia, passione, voglia che nascesse un soggetto capace di unificare diversi filoni del riformismo di questo paese e che fosse una sinistra profondamente innovativa, anche discontinua col passaggio. Però vincete solo quando non vi sono ex comunisti. Ma anche questo non lo so se effettivamente è così. Per usare la sua categoria ci sono tanti ex comunisti che hanno esercitato funzioni di responsabilità. Non vincete elettoralmente. Ma anche elettoralmente. Vince Prodi, soltanto Prodi. D'Alema arriva alla presenza del Consiglio per lo sgambetto a falso Bertinotti. Stiamo parlando del 1998-96-98, quindi sono passati la seconda vittoria di Prodi del 2006. Io credo che noi abbiamo compiuto degli errori e col senno di poi abbiamo perduto una grande occasione nel 2013 perché c'erano le condizioni per una vittoria nelle urne del centro-sinistra sotto la guida di Bersani e questo avrebbe in qualche modo anche smentito questa sequenza che lei oggi mi ricorda. Ma non credo sia questo il problema fondamentale. Io credo che l'eventuale scissione del Partito Democratico, che peraltro all'orizzonte non intravedo, non vedo, sarebbe una sconfitta per la sinistra perché la sinistra italiana, lei lo sa come me, ha una tradizione ricca, ricchissima, però atteso sostanzialmente a risolvere le questioni del proprio interno dividendosi e ogni volta che si è divisa è stata più debole, è stata meno forte, meno efficace la sua azione. Oggi noi dobbiamo sfruttare fino in fondo la possibilità, la potenzialità di quel largo consenso che il PD ha saputo raccogliere e deve essere per un consenso che dà vita ad una sinistra, secondo me, ripensata, anche con un grande coraggio dal punto di vista culturale, di innovazione delle sue politiche, delle sue strategie. Se noi facciamo una riflessione, due anni fa, facendo un passetto indietro, i leader italiani sono completamente scomparsi, di fatto, da Bersani, Fini, Casini, Berlusconi, che le ricordava ormai è in un momento crepuscolare, ma se Grillo avesse accettato di fare il governo con Bersani e lei mi dirà, come dire, la storia non si fa con i sé, però ci aiuta a ragionare degli errori probabilmente sbagliati, se Grillo avesse accettato di fare il governo con Bersani probabilmente non ci sarebbe stata questa scesa di Renzi. Cosa poteva cambiare nella politica? Ma guardi, se la seguo su questo gioco, perché tale è, ma non c'è dubbio che anche l'elezione al Quirinale di Franco Marini avrebbe cambiato lo scenario. Qualcosa. O dopo qualche giorno l'elezione di Romano Prodi. L'elezione di Marini che era anche tecnicamente possibile, perché voglio ricordare che... Che Mari si è eletto... No, ma voglio ricordare che Franco Marini ha ricevuto nella prima, credo anche nella seconda votazione, un numero di voti che era superiore a quelli necessari dalla quarta votazione per poter essere eletto presidente della Repubblica, quindi col senno di poi davvero... Per cui una strategia. Lei però mi ha fatto una domanda specifica sul movimento di Grillo, che è un fenomeno di grande interesse. Io potrei rispondere con le risposte un po' più scontate, sì, un movimento con tratti di autoritarismo, perché l'uso della rete, ancora stamani i giornali parlano di nuove espulsioni comunicate via sms. Certo, non è un modello dal punto di vista della democrazia interna che io considererei come al quale ispirarsi, però le voglio dire una cosa che riguarda proprio la mia esperienza. Io sono un deputato che sta nella prima commissione alla Camera a fare i costituzionali e nella conoscenza ravvicinata di alcuni di questi, nel caso della mia commissione, devo dire la quasi totalità dei rappresentanti del Movimento 5 Stelle, parliamo di un profilo di parlamentare, naturalmente la prima esperienza, prima non c'erano, piuttosto giovane, sono ragazzi che stanno tra i 30 e i 40 anni, uomini, donne tra i 30 e i 40 anni, con un livello di passione civile e di competenza che acquisiscono lungo il percorso assolutamente apprezzabili. Allora per stare al suo gioco di simulazione, al risico che lei faceva al posto dei carri armati, cosa sarebbe accaduto, se... Beh, io penso che forse oggi, dopo due anni di legislatura, poco meno, anche una parte di quelle forze, di quei gruppi parlamentari, di quei giovani parlamentari, i grillini, avrebbero un atteggiamento diverso, perché hanno maturato una consapevolezza anche delle responsabilità che deriva loro dal ruolo che ricoprono e io credo che in questo senso sia apprezzabile una parte del lavoro che fanno. Anche perché non me ne voglia, ma tra la Boschia e Madia non è che stiamo parlando di statisti al governo del paese. Questo lo dice lei, io ho grande stima di entrambe, il governo sta facendo le cose che sta facendo, ma insomma poi i giudizi possono essere diversi. Naturalmente se uno si volta... Io non ho detto che non siano capaci, ma non sono delle statistiche. Vabbè, insomma... Se l'avesse messo Berlusconi lo avrebbero sparato. No, però non è propriamente così. Lei ha fatto due esempi, ha citato due giovani donne che stanno facendo un lavoro difficile. Anche lì, le ripeto, potremmo discutere nel merito, ci sono degli aspetti della riforma elettorale e della riforma costituzionale che portano molto l'impronta della ministra Boschi che io non condivido e su cui ho espresso delle riserve, delle critiche. La ministra Madia è impegnata in una riforma molto difficile come quella della pubblica amministrazione. Ma io penso che nell'insieme, adesso senza fare dei riferimenti personali, nominativi, ma sia un fatto positivo per l'Italia che ci sia questo processo di rinnovamento della nostra classe dirigente. Lei ha citato un attimo fa il fatto che gran parte dei leader, delle personalità di primo piano, di due anni fa soltanto, oggi o sono offuscate un po' o sono rientrate un po' nell'ombra. E c'è un grande problema che riguarda l'Italia, il sistema paese, che riguarda appunto il rinnovamento delle classi dirigenti. Però me lo fa dire una cosa, non solo nella politica, riguarda l'accademia, riguarda l'informazione, riguarda il mondo dell'impresa, il mondo della finanza. La politica è un'altra cosa, però. Non c'è dubbio che la politica ha il compito di stimolare questo rinnovamento, però, guardi, mi faccia fare una battuta maliziosa, anche se io di solito non lo sono. Ecco, forse anche qualche contenitore televisivo che da più di due anni, molto più di due anni, ha le stesse presenze, gli stessi conduttori, ha forse anche lì un rinnovamento. Sì. Farebbe bene. Io, come dire, alla politica, condivido, poi insomma si aprirebbero spazi. Esatto, esatto. Però, al di là di questo, io però della politica ho un'idea meravigliosa. Anch'io. Di nobiltà. Sì, anch'io. Per cui l'errore del sottoscritto, che è un mediocre giornalista. Non si butti giù. Potrebbe, potrebbe eventualmente far indignare qualche altro cittadino che ha la pazienza di seguirmi, ma certamente non andrei a impoverire la famiglia. Il politico invece mediocre o poco capace determina drammi, potrebbe determinare drammi sociali. Ecco perché la nobiltà della politica deve avere nobili uomini. Io la penso come lei, la politica è un'arte molto nobile, poi l'Italia è la patria di una certa elaborazione moderna della politica, insomma noi siamo il paese di Machiavelli e non soltanto, ma la politica è formazione, non c'è dubbio, è studio, è applicazione, è aggiornamento, è fatica, è coerenza. Questa idea di un'improvvisazione dell'agire politico, l'idea che si fa un'altra professione, un altro mestiere e poi ad un certo punto da un giorno all'altro ci si dedica alla vita pubblica.